Cominciare una mia attività non è sempre stato parte dei miei piani, non solo vicino a me non esistevano dei modelli di riferimento che fossero attivi nel mondo imprenditoriale, ma per molto tempo devo dire che sono stata convinta di non essere tagliata per questo mondo, di essere forse troppo soft, troppo femminile, non lo so, o comunque troppo debole per riuscire a fare impresa con successo. E anche quando poi sono partita con il mio progetto, con una sorta di grande obiettivo dentro di me, con l'idea che in fin dei conti potevo perlomeno provarci, ho sempre pensato che crescere la mia attività da un punto di vista economico in qualche modo non fosse compatibile con l'avere una mission, una mission che potesse essere una mission ad alto impatto, che potesse consentire magari di cambiare in meglio quello che mi circondava. E quindi mi ero davvero convinta che per poter essere un'imprenditrice di successo sarei dovuta essere brutale, sarei dovuta essere egoista, priva di emozioni e soprattutto assolutamente non curante di quello che effettivamente era l'impatto delle mie azioni. E quindi era chiaro che mi sentiva ancora più a disagio nell'affrontare questo tipo di impresa convinta che forse non era proprio qualcosa per cui ero tagliata. Poi ho capito una cosa davvero importante a mio avviso, che poi è stato l'aspetto che mi ha consentito di proseguire nel mio percorso e di non abbattermi di fronte alle difficoltà e di fronte alla convinzione appunto di non essere tagliata per questa cosa. Ho capito che per avere un successo che sia un successo sostenibile nella nostra attività, la nostra motivazione deve andare ben oltre il semplice desiderio di acquisire ricchezza. Se il desiderio di accumulare soldi supera il desiderio di contribuire attraverso il nostro prodotto o servizio, di fornire un valore ai nostri potenziali clienti, diventa molto più facile stancarci, perdere la motivazione, trovarci a dover affrontare il cosiddetto burnout, perché poi il burnout deriva da che cosa? Da una stanchezza, da un esaurimento costante, dal fatto di fare scelte sbagliate perché abbiamo le motivazioni sbagliate o incomplete e quindi dal fatto di fidarci magari di persone di cui non dovevamo fidarci e tutto questo poi si riflette inevitabilmente anche nel nostro bilancio. Naturalmente i soldi sono importanti, quindi lungi da me il dire o l'affermare che non lo siano, se vogliamo crescere la nostra attività dobbiamo crescere anche da un punto di vista finanziario, quindi dobbiamo trovare una sorta di chiave che di volta, una sorta di equilibrio fra queste due parti. Sulla base di quella che è stata la mia esperienza negli ultimi anni, la prima cosa di cui dobbiamo assicurarci per raggiungere un successo sostenibile è fornire valore a quella che è la nostra nicchia di riferimento, qualunque essa sia. È chiaro che sembra abbastanza ovvia come cosa, ma non lo è, così tante volte mi sono trovata di fronte a businessman che dicono ma sì, butta fuori qualcosa, qualunque cosa, tanto è come lo vendi che fa la differenza, non che cosa vendi, altrimenti il McDonald's, la Coca Cola mica avrebbero il successo planetario che hanno. Io li guardo all'ibita e penso sì, beh, l'unico dettaglio è che crescere un impero sulla base di un prodotto assolutamente dannoso per le persone, che favorisce l'obesità, la dipendenza da zuccheri raffinati per la popolazione mondiale, con tutti i rischi di salute annessi e connessi, forse non è il tipo di attività che ti sentiresti orgoglioso di condividere o che ti farebbe dormire tranquillo la notte, poi è chiaro che dipende dai valori di ciascuno di noi. Ma a mio avviso come vendi è importante, ma che cosa vendi è altrettanto importante se vuoi fare un'imprenditoria di tipo consapevole e sostenibile per te e per chi consuma il tuo prodotto o per chi si affida al tuo servizio. Quindi ti chiedo, hai mai pensato, magari scrivendolo nero su bianco, che cosa il tuo prodotto o servizio aggiunge al mercato? Quale valore apporta? Magari stai semplicemente, che poi tanto semplice non è, fornendo un servizio e un prodotto che non esisteva ancora prima. Oppure stai migliorando l'esperienza di clienti di una nicchia che già esisteva, ma che magari aveva qualcosa che poteva sicuramente essere migliorato. Qualunque sia quello che vendi, è il tuo X Factor che ti permette di spiccare sulla concorrenza e di crescere anche da un punto di vista economico in maniera costante e sostenibile. Davvero rimarrai sorpresa di fronte a quanto velocemente puoi crescere la tua attività quando il tuo interesse primario, non certo l'unico perché ripeto l'interesse economico ci deve essere, ma quando il tuo interesse primario è quello di fornire valore. Ti faccio qualche esempio tratto dalla nostra esperienza per farti capire in termini pratici come questo si può poi tradurre nella quotidianità della tua attività. Ogni anno lanciamo alcuni eventi che sono eventi fisici. Noi lavoriamo soprattutto nel mondo digitale, ma ogni anno soltanto per i nostri clienti affezionati creiamo degli incontri dove possono effettivamente incontrare noi e incontrare e incontrarsi tra loro e conoscersi. Non solo, ma in questi eventi hanno anche l'opportunità di conoscere gli autori di alcuni dei programmi che sono, che li hanno appassionati o che hanno loro permesso di trasformare alcuni aspetti della propria vita. Questi eventi ci costano parecchio, ma cerchiamo di renderli accessibili a quante più persone possibile. Quindi il range di costi per partecipare ad un evento di questo tipo può andare dai 19 ai 30 euro, ma sono davvero delle cifre irrisorie, che ovviamente non ci permettono di fare profitto da questi eventi, di ricavare del profitto da questi eventi. A volte non riusciamo nemmeno a coprire completamente le spese. Certo, questo deve essere, diciamo così, un obiettivo che ci prefiggiamo continuamente. Non sempre ci riusciamo, perché è chiaro che vogliamo dare un valore e vogliamo garantire una splendida esperienza alle persone in modo che sia accessibile. Quindi diamo senza chiedere nulla in cambio. E questo è quello che mi piace definire, e ne parlo molto dentro Biz Academy, relazione del terzo tipo. Una relazione dove davvero io ti offro qualcosa e da quella condivisione di valore nasce un rapporto di fiducia che poi certo porta anche al profitto, perché porta un cliente a decidere di acquistare da te non una sola volta, ma due, tre, quattro, cinque, sei e così via. Oppure di innescare un passaparola che davvero diventa quasi un passaparola virale. Senza che tu abbia fatto nulla da un punto di vista prettamente strategico, quindi senza che tu abbia messo in piedi chissà quali strategie di social media virale, ma semplicemente fornendo il massimo valore alle persone che hanno già deciso di riporre la propria fiducia all'interno di quello che appunto è il il tuo contenitore esperienziale, quindi il tuo progetto o il tuo servizio. Quindi uno potrebbe dire beh che senso ha fare questi eventi se poi non ricavate nulla, ma quello che ricaviamo è molto di più di quello che può essere un immediato riscontro in termini di profitto, perché ripeto la fiducia che si consolida durante questi eventi in cui conosciamo di persone i nostri clienti li porta poi a restare con noi per molto moltissimo tempo. Un altro esempio è quello che riguarda la nostra assistenza al cliente, il nostro team di assistenza al cliente. Non siamo minimamente ossessionati dall'idea di dover vendere a tutti i costi e questo ci aiuta quasi paradossalmente, perché in effetti da un punto di vista logico potrebbe sembrare il contrario, ci aiuta ad incrementare le nostre vendite. Ad esempio ogni volta che qualcuno ci chiede un rimborso, che può essere anche un rimborso che va oltre la data stabilita per il rimborso, che di solito sono 30 giorni o sono 60 giorni a seconda del tipo di prodotto, naturalmente a meno che non si tratti di un tentativo che poi spesso insomma è abbastanza individuabile di fregarci tra virgolette, c'è chi compra magari un sacco di corse e può chiedere subito il rimborso, quello è subito individuabile come scenario ecco da limitare, però ci sono delle situazioni particolari dove per la qualsivoglia ragione qualcuno ha bisogno di ricevere un rimborso e succede oltre la data prevista per la richiesta di rimborso, noi glielo facciamo lo stesso. Ripeto, non voglio che queste regole vengano prese così come formula copia e incolla, ci sono situazioni e situazioni, ma il nostro team di assistenza non ha l'obiettivo, non ha come KPI, quindi come obiettivo numerico il numero di vendite, non ce l'ha, chiaro che questo diventa una sorta di obiettivo di riflesso perché si viene a creare nel momento in cui chi riceve questa forma di assistenza si accorge che noi ci interessiamo della sua situazione e non ci interessa cercare di cacciargli in gola una vendita perché così riusciamo a ricavare del profitto in più, non è quello l'obiettivo. Un'altra cosa che facciamo a mio avviso molto bella, che non facevamo inizialmente perché non ce n'era la possibilità proprio in termini di risorse, è testare tutti i corsi su di noi, cioè tutti i programmi che noi proponiamo all'esterno vengono prima vagliati o da me direttamente o da qualcuno del nostro team e inizialmente lo facevo solo io, adesso c'è in effetti qualcuno che si dedica principalmente a questa attività all'interno del team e questo ci consente anche di essere estremamente preparati ad aiutare chi ci chiede sostegno, chi ci chiede assistenza, per ad esempio il completamento di un corso o per dubbi o domande relativi a quel corso e il risultato è che il nostro tasso di rimborso è davvero una percentuale bassissima e questo è il risultato di come non vendiamo, non tanto di come vendiamo, cioè di come ci stacchiamo da questa ossessione per la vendita e cerchiamo invece di renderci disponibili per chi ci sta chiedendo aiuto. Quindi il primo fattore chiave per crescere la nostra attività in maniera sostenibile è aggiungere valore a quello che è il nostro prodotto o l'esperienza che forniamo col nostro servizio e il nostro bilancio cresce di riflesso. Ovvio che ci devono essere in piedi tutta una serie di strategie per chiudere, concludere la vendita, ma soltanto quelle strategie da sole a mio avviso lasciano il tempo che trovano. Quindi abbiamo parlato del prodotto e del servizio che deve offrire valore. A questo punto parliamo di un'altra componente fondamentale per crescere un'attività in modo sostenibile sia da un punto di vista economico, sia da un punto di vista personale, quindi di flessibilità e di libertà individuale di chi poi gestisce l'attività, cioè noi. E sto parlando delle persone. Le persone si dividono in due grandi categorie. Abbiamo i nostri clienti e su questo abbiamo già parlato e vi ho già dato qualche spunto su come noi interagiamo con i nostri clienti, ma c'è un altro gruppo di persone, altrettanto cruciale, per aiutarti a crescere la tua attività. E sto parlando del tuo team. Che si tratti di persone che hanno firmato un contratto standard di dipendenti full time, oppure si tratti di collaboratori esterni. Quando lavori con il tuo team, quindi con un gruppo di persone ti stai rapportando a dei talenti brillanti, peraltro, che ti stanno aiutando a fare la differenza nella tua attività. Ed è importante che questo sia anche reciprocato, cioè che sia una priorità per te aiutare loro a fare la differenza nella loro vita personale e professionale, comprendendo quelli che sono i loro obiettivi, assicurandoti che siano soddisfatti del loro lavoro. Non ha importanza che tu abbia soltanto una personal assistant che ti aiuta, o cinque persone, o cento, o mille. Quando le persone nel tuo team sono felici e motivate, lavorano meglio e vivono meglio. E questo ti consente anche di recuperare del tempo prezioso da dedicare al tuo focus primario, che può essere quello che nessuno nel team può fare al posto tuo e che è quello non l'unica cosa a cui dovresti dedicarti, ma a mio avviso la cosa a cui come fondatrice della tua attività o come cofondatrice della tua attività dovresti dedicare l'ottanta per cento del tuo tempo. Quindi tu aiuti loro a realizzare i propri progetti professionali o a dare priorità ai valori che sono importanti per loro. Ci può essere il valore economico, ci può essere sempre il valore della flessibilità, ciascuno poi ne ha uno diverso a seconda della propria persona. Mentre loro ti aiutano ovviamente ad avere un impatto ancora maggiore attraverso la crescita della tua attività, aiutandoti a crescere la tua attività. Quindi è un circolo virtuoso estremamente connesso. Ora, per rendere felici e soddisfatti i membri del tuo team ci sono alcune cose che puoi fare. Naturalmente io ti condivido quelle che personalmente ho messo in pratica e che spero possano darti qualche utile spunto. Naturalmente per tutto quello che faccio in rapporto al mio team, soprattutto quando sono partita, ho tratto grandissima ispirazione dal mio mentor e amico Vishen Lachiani. E una delle cose che ho imparato fin da subito è che una delle chiavi per riuscire a creare un grande rapporto di fiducia con i membri del tuo team è non porre troppe restrizioni alla loro libertà. Questa è una cosa che abbiamo sempre vissuto anche quando lavoravamo da un ufficio fisico, quindi da una sede fisica, ma alcuni anni fa la realtà si è completamente trasformata in una azienda al cento per cento virtuale. Quindi tutto il team lavora da remoto e siamo sparsi in tutto il mondo. E questo ha portato ovviamente a dover definire alcune regole di buona condotta che sono fondamentali perché altrimenti ci sarebbe l'anarchia più totale. Però diciamo che l'aspetto della libertà è passato a un livello addirittura superiore proprio perché c'è la massima libertà anche sia temporale che geografica nel gestire il proprio lavoro. Naturalmente ho scelto questo modello con tutte le sfide del caso perché la mia priorità è sempre stata la mia massima libertà. Non volevo assolutamente essere limitata o costretta a stare sempre nello stesso posto e nemmeno, meno che mai ancorata, anzi incatenata ad una scrivania. Quindi il principio che ho seguito è stato volere per il mio team quello che volevo per me stessa. Naturalmente, e questa è una parentesi importantissima, non tutti sono adatti a lavorare in una realtà da remoto. Quindi lungi da me il voler imporre il lavoro da remoto a qualcuno che invece vogliamo starsene in ufficio, assolutamente no. Di questo parleremo in altri episodi di Impact Girl. È importante che selezioniamo ovviamente i talenti giusti se vogliamo intraprendere questa strada. Ma tornando a noi, che cosa significa che abbiamo una flessibilità che è stata veramente portata a un livello altissimo? Significa che nessuno è costretto a presentarsi ovviamente in ufficio, visto che non ne abbiamo uno, ma nemmeno costretto a cominciare a lavorare ad un orario specifico. Nemmeno sei costretto a lavorare 8 ore al giorno. Quindi cerchiamo di alimentare un ambiente che sia, che si basi sui risultati e non sulle ore che stiamo incollati davanti allo schermo. Questo significa che se tu riesci a finire il tuo lavoro in meno di 8 ore, puoi tranquillamente goderti il resto della tua giornata. Chiaro che ci sono delle regole minime di buona condotta, come vi dicevo prima. Più che di buona condotta, sono delle regole di buon senso. È chiaro che avendo persone che sono anche in time zone diverse, ci sono degli orari del giorno in cui è importante che siamo tutti raggiungibili e di solito è l'orario del mattino, quando appunto per chi si trova nel sud-est asiatico dove abbiamo alcuni talenti è già pomeriggio. Questo è importante per evitare che poi ovviamente ci siano dei rallentamenti o chi si trova in una time zone si trovi appunto a dover aspettare che le altre persone si sveglino. Ma ripeto queste sono proprio delle semplici regole per aiutare tutti ad essere molto più rapidi e molto più efficienti. Naturalmente se qualcuno vuole lavorare da un posto diverso per un certo periodo dell'anno, o vuole starse in un coffee shop, oppure vuole lavorare da un treno perché vuole farsi tutta l'Europa fino alla Scandinavia con il treno. Insomma tutto quello che qualcuno possa pensare di voler fare può farlo, purché naturalmente sia accessibile e sia in grado di rispondere alle esigenze del resto del team. Quando creiamo un rapporto di fiducia con le persone che lavorano con noi, dobbiamo anche fare quello sforzo di capire che cosa le muove, che cosa le ispira, che cosa desiderano per la loro vita. Perché se non sai qual è, diciamo così, il movente che in qualche modo accende loro il fuoco dentro, diventa anche difficile riuscire a capire se stanno svolgendo il ruolo giusto, se potrebbero invece fare qualcos'altro, perché non sempre te lo verranno a dire. Ed è importante soprattutto in una realtà remota, come la nostra, dove l'interazione face to face non c'è, se non una volta o due volte l'anno, è importante riuscire a dovviare a questa mancanza ecco di interazione diretta. Ecco perché quello che facciamo è l'esercizio delle tre domande più importanti, che è qualcosa che svolgiamo ad ogni team retreat annuale, quindi ad ogni occasione di incontro face to face annuale con tutto il team. Questo è un esercizio non mio, ma ideato sempre dal mio mentor Vision Lacchiani diversi anni fa, peraltro, e che abbiamo sempre seguito come modello. È un esercizio di visualizzazione, peraltro molto semplice, che porta ciascuno di noi, me inclusa, perché è una cosa che possiamo fare noi e che possiamo condividere con il nostro team, a rispondere a tre domande, appunto chiamate tre domande più importanti, che ci diano un'idea della direzione che vogliamo intraprendere nella nostra vita, una sorta di GPS per capire se stiamo andando nella strada giusta o se magari ci stiamo muovendo per inerzia. Quando queste tre domande vengono poste ai membri del nostro team, riusciamo proprio a capire come possiamo creare un ambiente che possa stimolarli da un punto di vista personale e professionale. Questo naturalmente aiuta moltissimo anche la retention dei membri del tuo team. In una realtà come quella dei millennials, dove il turnover, il cambio è costante, dove è difficile trovare talenti ed è difficile anche tenerseli, perché poi i talenti vogliono saltellare da un'esperienza all'altra. Nel momento in cui sai esattamente quello che desiderano, riesci anche a creare per loro un ambiente più soddisfacente, che consenta loro di crescere professionalmente riducendo la voglia magari di cambiare e di andare altrove. Nel nostro team abbiamo membri che sono con noi da diversi anni, quindi posso assicurarvi che questo approccio sicuramente aiuta moltissimo. Quali sono allora le tre domande più importanti? La prima, che cosa voglio sperimentare nella mia vita? Quindi quali sono le esperienze che vorrei fare nella mia vita? La seconda domanda, come voglio crescere personalmente così che queste esperienze possano diventare reali? La terza domanda, come voglio contribuire per restituire al pianeta o per restituire alla mia comunità? Facciamo qualche esempio per capire quali potrebbero essere delle risposte a queste domande e come ci potrebbero aiutare. Qualcuno potrebbe dire che una delle esperienze che potrebbe voler fare nella vita è parlare sul palco del TED e condividere qualcosa di particolarmente importante per lui o per lei. A questo punto la risposta alla seconda domanda, quindi come voglio crescere perché questa esperienza diventi reale, potrebbe essere imparare a parlare in pubblico, superare la paura di parlare in pubblico, migliorare la mia dialettica quando parlo in pubblico, la condivisione della mia storia. Quindi leggere libri oppure parlare con qualcuno che è già un esperto nel contesto, nel settore. La terza domanda, la risposta alla terza domanda, quindi come voglio contribuire per restituire quello che ho ricevuto potrebbe essere veramente la qualunque perché poi qui ciascuno si sbizzarisce a seconda di quelli che sono i propri valori. Ma, restando sul tema del public speaking, potrebbe essere quello di creare un evento di public speaking i cui proventi vadano tutti in beneficenza per una causa a cui teniamo moltissimo. Ora vi sto facendo un esempio molto tematico legato al public speaking, però le risposte possono essere tante quante desideriamo, quindi i punti della prima domanda possono essere 10, 20 o quanti vogliamo, così come della seconda e così come della terza. L'importante è capire che le risposte a queste domande ci aiutano, soprattutto quelle che ovviamente, anzi solo quelle che il nostro team ci consente di leggere, perché alcune cose possono essere ovviamente private, ci consente di capire quali sono gli obiettivi dei membri del nostro team e come possiamo aiutarli all'interno del contesto lavorativo o fuori per raggiungerli. Quindi questa è la seconda chiave per la nostra crescita, investire in maniera consapevole nelle persone che ci stanno aiutando a svolgere il lavoro che stiamo facendo, in maniera tale che siano più felici, più produttivi, più efficienti e più motivati ad aiutarti a creare l'impatto che stai cercando di avere con il tuo servizio o il tuo prodotto. D'accordo? Quindi abbiamo parlato dell'importanza del valore di quello che vendiamo, ok? Da aggiungere all'importanza di come vendiamo. Poi abbiamo parlato dell'importanza delle persone, quindi di quanto è importante essere consapevoli dei nostri clienti, che non sono soltanto numeri, ma sono persone, e dei nostri team members, quindi chi lavora con noi. Manca un ultimo tassello, che non è ultimo perché meno importante, in quanto rappresenta la cura per noi stessi. Quindi non solo la cura per il nostro prodotto o servizio, la cura per le nostre persone, ma la cura per noi stessi. È assolutamente chiave. Da un punto di vista imprenditoriale, è facile perdersi in quello che è una vera e propria dipendenza da lavoro. Per cui uno dice, beh, ho rinunciato al lavoro d'ufficio che mi costringeva a cominciare a lavorare alle 8 e mezza e finire alle 5, con il risultato che però non finisco prima delle 11 di sera. Poi certo c'è sempre la scusa, che poi non è una scusa, è una verità. La mia attività mi piace molto di più di un lavoro d'ufficio, quindi ho maggiore motivazione, però è chiaro che se non ci diamo un limite, può diventare di nuovo una forte, il rischio di burnout è notevole e può diventare un vero e proprio rischio per la nostra salute. Ho conosciuto tantissimi imprenditori, inizialmente ho seguito peraltro il loro modello nei primissimi anni della mia attività, che non avevano una vita e che la cui vita era assolutamente il lavoro. E devo dire che appunto per i primi tre, forse anche quattro anni della mia attività, io ho vissuto per la mia attività. Ora, le ragioni per cui un imprenditore diventa un drogato di lavoro possono essere diverse. Alcuni di noi vogliono controllare ogni singola cosa e si rifiutano di lasciare andare anche i dettagli più minuscoli che potremmo delegare. Alcuni di noi invece semplicemente sono convinti di avere le energie dure, le inesauribili. Alcuni di noi sono invece convinti che l'unico modo per avere risultati è lavorare il doppio degli altri, come se questa fosse una formula matematica, come se fare di più automaticamente rendesse qualcosa che stiamo facendo importante. solo perché la stiamo facendo in maniera più specifica e più veloce o in volumi maggiori. Altri potrebbero pensare che semplicemente non hanno bisogno di una pausa e questo probabilmente è la sindrome più diffusa tra i giovani imprenditori. Chi ha bisogno di una pausa? Chi ha bisogno di staccare? Quindi facciamoci pure tutta la notte a lavorare per giocare d'anticipo, per vincere sulla concorrenza, poi però i danni alla nostra salute possono arrivare quando meno ce l'aspettiamo. Devo dire che per risolvere questa sorta di circolo vizioso, prima abbiamo parlato di circolo virtuoso, questo è un vero e proprio circolo vizioso, io personalmente mi sono sforzata di aprirmi all'idea di poter scegliere di non lavorare tutto il giorno, ogni giorno. Quindi mi sono aperta all'idea che potesse essere una scelta consapevole per me stessa e per le persone che amo. Ci sono stati dei momenti in cui pur con grande paura ho deciso di fare degli stacchi di giorni, a volte anche di settimane dalla mia attività, perché davvero avevo bisogno di rigenerarmi, avevo riconosciuto il bisogno di rigenerarmi. E ogni volta che questa cosa è successa ci sono sempre stati almeno due aspetti che si sono in qualche modo consolidati nella mia consapevolezza. Il primo è che davvero avevo bisogno di fare una pausa e che la mia creatività così come la mia determinazione avevano bisogno di un tempo di recupero e di incubazione e che non potevo continuare a strizzarmi come una spugna sperando che continuasse ad uscire del succo che a un certo punto poi non era esaurito. E con la mia creatività e la mia determinazione rigenerate acquisivo anche, tornavo sempre con una capacità anche molto più profonda di affrontare i problemi da un punto di vista neutrale, quindi senza una carica emotiva che se non avessi, mi fossi data il tempo di staccare, mi avrebbe probabilmente trascinato verso il basso. Ma la seconda realizzazione e forma di consapevolezza, mi avviso la più importante in assoluto, è stato rendermi conto che la mia assenza non causa nessun danno. Cioè è stato rendermi conto che imparando ad avere una maggiore fiducia nei confronti del mio team, imparando a lasciare andare la mania di controllo di ogni singolo aspetto, il mio team è brillante a sufficienza se non addirittura più brillante di me nel portare avanti quella che è l'attività nel momento in cui io mi assento per un certo periodo di tempo e che in diverse occasioni il mio team trova delle soluzioni molto migliori di quelle che avrei potuto pensare io spremendomi le meningi giorno e notte senza mai staccare. Per tanto tempo sono stata bloccata in questo circolo vizioso del più faccio sempre, più posso crescere, più controllo ogni virgola, maggiori e migliori saranno i risultati che ottengo. Niente di più sbagliato. Quando stiamo col fiato sul collo, sulle spalle dei nostri collaboratori, facciamo ristagnare loro perché lavorare con noi diventa un incubo e facciamo ristagnare noi perché poi non ci diamo mai una tregua e non riusciamo a creare quel rapporto di fiducia fondamentale perché le cose possano crescere mentre noi, così come anche loro, possano avere una vita al di là del lavoro. Ecco perché è importante che impariamo a delegare almeno inizialmente le attività più ripetitive magari o quelle che sappiamo possono essere facilmente apprese da qualcun altro prima possibile. Ecco che allora abbiamo il tempo di concentrarci su quello che davvero conta per noi, su quello che possiamo fare per il momento soltanto noi e possiamo quindi incanalare le energie limitate che abbiamo verso la direzione più proficua e più adeguata. Ecco perché, e con questo concludo, arriviamo alla parte conclusiva di questo episodio, è importantissimo per riuscire ad avere il successo che desideriamo recuperare anche un equilibrio, cioè il vero successo è un successo che sia, un successo equilibrato. Possiamo avere tutti i soldi del mondo ma se non abbiamo la salute non andiamo da nessuna parte. Magari la salute ce l'abbiamo ma appunto siamo sempre incollati al telefono 24 ore su 24 e non abbiamo un momento di tregua. Dormiamo male, non abbiamo un bel rapporto con il nostro partner e chi più ne ha più ne mette. Magari siamo sovrappeso perché non ci diamo il tempo di prenderci cura del nostro corpo. Ma come possiamo cambiare il mondo e avere un impatto nella realtà che ci circonda se non riusciamo nemmeno ad averlo nelle nostre vite? Senza contare che se vogliamo apportare un cambiamento significativo alla realtà che ci circonda, magari vogliamo anche essere in grado di vederlo con i nostri occhi. Giusto? Quindi ricapitoliamo i tre fattori fondamentali che possono aiutarci ad avere un impatto con la nostra attività. Mentre comunque abbiamo anche, preserviamo una vita e costruiamo comunque la nostra libertà finanziaria. Prima di tutto essere consapevoli di quello che mettiamo là fuori e prendere la responsabilità, quindi assumersi la responsabilità di quello che facciamo. Quindi non entriamo in un mercato soltanto perché è proficuo, questa tendenza è molto comune nel mondo digitale ad oggi, ma cerchiamo di capire perché vogliamo farlo. Questo ci darà anche la motivazione che ci serve quando gli imprevisti arrivano e le difficoltà si fanno sentire. Secondo, siamo consapevoli dei nostri clienti che sono persone del nostro team, che non è lì perché è al nostro servizio, ma è lì per crescere insieme a noi, mentre insieme cresciamo il nostro progetto. Infine, dobbiamo diventare consapevoli di noi stessi e di come ci stiamo approcciando all'attività. Quindi è importante che impariamo a avere fiducia nelle persone che ci circondano. Se queste persone tradiscono la nostra fiducia, lasciamole andare senza prenderla sul personale e cerchiamo semplicemente di creare una situazione di win-win per entrambe le parti, dove anche sia chi lavora con noi che noi stessi possiamo davvero recuperare del tempo prezioso per le nostre vite, dove il lavoro non diventi l'unica costante. La cosa migliore per fare questo, naturalmente, è diventare un leader attraverso l'esempio. Quindi non ti sto suggerendo di ripetere la pappardella teorica al tuo team, ma mostrare loro che anche tu ti prendi delle pause, mostrare loro che la creatività e l'ispirazione vanno rigenerate, mostrare loro che il successo significa anche equilibrio. Un successo che nasce a spese della nostra salute, della salute del nostro team e della salute del mondo che ci circonda, a mio avviso non è successo, è soltanto ingordigia e ci tornerà indietro come un boomerang, è solo una questione di tempo. Piuttosto scegliamo di avere un impatto, mentre aiutiamo noi stessi e le persone che ci sono accanto a crescere. Questa è la forma di successo più entusiasmante che conosco e anche quella che credo sia la più sostenibile. Questo è tutto per la puntata di oggi. Spero di averti dato qualche utile spunto che potrai implementare sin da subito. Se crescere un business in cui credi sul web in modo autentico e proficuo è parte dei tuoi piani e non sei ancora entrata a Biz Academy, puoi farlo visitando il sito biz-academy.it Noi come sempre ci sentiamo o vediamo alla prossima puntata di Impact Girl.